Boss in incognito. Boss in incognito. Torna. Ancora. Bentornati sul canale. Oggi dall'alto in basso. Non che io vi guardi dall'alto in basso, ma siete voi a guardarmi dall'alto in basso. Grazie per essere qui. Oggi nuova inquadratura nel mio studio mobile all'interno di questo camper dal quale vi parlo sul nostro canale. Ormai è diventato il nostro. Fabio Calvari, Comunica Online. Vi ringrazio per il supporto che mi state dando, che se volete continuare a dare potete farlo. Se siete di passaggio o siete tra quelli che guardano i video ma poi non si iscrivono, sarebbe carino, tanto è gratis, per sostenermi un pollicione, l'iscrizione e poi l'attivazione della campanellina. Oggi vorrei parlarvi di Boss in incognito, che è questo programma strano che va in onda in Rai, su Rai 2. Max Giusti, ancora una volta, è colui che lo conduce, che si traveste. Sapete come funziona Boss in incognito, no? Un'azienda chiama Boss in incognito perché vuole scoprire il grado di appartenenza dei propri dipendenti nei confronti dell'azienda, se c'è qualcuno che rema contro, eccetera, eccetera. Quindi con delle telecamere seminascoste, adesso vi dirò, inseriscono dentro il personale o Max Giusti travestito da operaio o da neoassunto o lo stesso datore di lavoro si traveste per cercare di capire cosa succede nella sua azienda. Qual è la scusa che mettono ormai da anni nei confronti dei dipendenti che vedono le telecamere? Perché le telecamere sono a vista, dicono ah, dobbiamo realizzare un servizio sulla nostra azienda. Allora, tanto per cominciare, questo dovrebbe essere tutto segreto, cioè tutti i dipendenti non dovrebbero sospettare nulla. Ma quali sono gli elementi che mi mettono una serie di punti interrogativi? Prima di tutto, sono anni che questo programma va in onda e il discorso ci sono le telecamere perché dobbiamo realizzare un servizio che andrà in onda, chissà dove, sulla nostra azienda non regge più perché anche i dipendenti avranno visto almeno una volta questo programma, no? E quindi quando vedono le telecamere già capiscono che è boss in incognito. Quindi io non credo che ci sia, diciamo, che sia tutto segreto. Poi, guarda caso, dobbiamo realizzare un servizio sulla nostra azienda e guarda caso c'è sempre un neoassunto che ogni tanto somiglia anche al datore di lavoro. Perché poi non sono aziende multinazionali, sono delle aziende che hanno dei dipendenti ma che comunque non così tanti che forse conoscono visivamente il datore di lavoro. Ma ha messo questo. Poi arriva Max Giusti. Arriva Max Giusti che anche se gli fai un'operazione facciale è sempre Max Giusti. Come fanno? Cioè, mi dovete dire come è possibile che i dipendenti di quell'azienda non riconoscano Max Giusti in quell'operaio appena assunto che deve imparare e che quindi è a fianco di uno dei dipendenti che poi si siedono in un posto e comincia un interrogatorio più che una discussione davanti alle telecamere. Allora, noi che siamo personcini a modo, noi che siamo personcine che insomma qualche cosa abbiamo visto, non ci crediamo assolutamente. Allora io mi chiedo qual è lo scopo di questo programma? Non riesco a capirlo. Se voi avete idea di che cosa possa significare fare ancora questo programma con queste dinamiche ormai scoperte. È un po' come il grande fratello. La prima edizione chi era dentro non sapeva cosa avrebbe trovato fuori. Dalla seconda edizione in poi fino alle ultime, vabbè, disastrose, chi va all'interno della casa e il grande fratello sa esattamente cosa succederà e quindi il suo comportamento all'interno e anche in funzione di quello che sarà all'esterno. Stessa cosa anche per boss in incognito. Io sono sicuro che i dipendenti quando si trovano in questa situazione capiscano immediatamente che si tratti di quel programma lì e forse si prestano al gioco volontariamente senza farsi scoprire o perché magari qualcuno gli dice oh anche se capisci vai avanti perché poi alla fine arriva un premio perché poi il datore di lavoro convoca le persone con le quali è venuto in contatto lui o Max Giusti e insomma al di là di qualche piccolo cazziatone alla fine arriva un regalo. Quindi è probabile che i dipendenti non dicano niente pur capendo che sta succedendo quello che sta succedendo proprio perché dice vabbè sai che c'è alla fine tutto sommato mi arriverà anche un regalo da parte del datore di lavoro. Quindi magari durante la discussione perché no ogni tanto è sempre in incognito che sia Max Giusti o che sia il datore di lavoro ma qual è il tuo più grande desiderio? Io mi metto nei panni del dipendente che magari ha capito tutto quanto e dice il mio più grande desiderio sarebbe quello di andare alle Maldive con tutta la mia famiglia e starci dieci giorni. Siamo in sei, non abbiamo mai preso l'aereo, non siamo mai usciti dall'Italia, capito? Così nel caso fosse veramente boss in incognito come credo sappiano alla fine magari questo desiderio verrà realizzato con il famoso biglietto alla busta questo è per te ho pensato a te perché tu sei il miglior dipendente. Insomma non ci crediamo e soprattutto non bisogna credere a quello che si vede in televisione o perlomeno non a tutto perché comunque qualsiasi cosa si veda in televisione è la rappresentazione di qualcosa e quando c'è una rappresentazione che sia teatrale cinematografica è un po' di spettacolo c'è sempre dentro magari c'è qualche esasperazione di qualche concetto di qualche comportamento di qualche situazione quindi il consiglio se guardate boss in incognito io non lo posso guardare perché appena compare Max Giusti travestito da nonno, da operaio, tutto, è Max Giusti non si può non riconoscere quindi è diventato per me almeno un programma comico quindi se proprio vedere anche le facce delle persone che gli stanno accanto che o fintamente fanno finta di non conoscerlo oppure non lo riconoscono però se non lo riconoscono devono aver vissuto una vita chiusi dentro un baule perché voglio dire questo programma è Max Giusti è un personaggio conosciuto poi ha una faccia talmente particolare che per quanto trucco gli possano fare è sempre lui cioè noi non riesco a capire non lo so quindi forse hanno sbagliato conduttore probabilmente secondo me se proprio vogliono fare una cosa che è credibile dovrebbero togliere Max Giusti togliere il fatto che il datore di lavoro di un'azienda anche lui si traveste e va lì dentro, telecamere nascoste e dei perfetti sconosciuti che si intrufolano dentro queste aziende per cercare di capire questo secondo me sarebbe più credibile boss in incognito non lo è assolutamente quindi per concludere diciamo questa nostra chiacchierata questa mia chiacchierata che se volete potete commentare e lasciate un commento qui sotto è non credere totalmente a tutto quello che si vede in televisione perché se noi crediamo a tutto quello che vediamo in televisione allora viviamo in un mondo che non esiste perché io che l'ho frequentato il mondo della televisione vi posso dire che tante di quelle cose che si vedono poi non sono realtà non tutto ma poi magari vi racconterò alcuni episodi che ho vissuto in prima persona e che vi posso raccontare vi ringrazio per aver seguito questo video non sono in incognito è palese il fatto che io sia su fabio calvari comunico online canale su youtube che se volete sostenere fatelo con un pollicione l'iscrizione e l'attivazione della campanellina va bene senza trucco e senza inganno vi dico che ci vediamo alla prossima ciao ciao